questo gioco che voglio mostrarvi fu rilasciato proprio quest'anno nel 2016 più che altro fu fatto dal team Ico e Sony Computer Entertainment giapponese The Last Guardian la storia parla del nostro protagonista che insomma racconta della avventura della gigantesca creatura chiamata Traiko molto tempo prima quando era ancora un bambino che scopre di trovarla e addirittura che è legato ad essa per uno strano destino vi dico soltanto che la storia è qualcosa di epico e inimmaginabile molto poetico vediamo ovviamente la grafica come è la tradizione del canale allora se devo dirvi la verità non è venuto male perché abbiamo le ambientazioni che sono proprio molto enigmatiche ben disegnate nel design ok e anche gli effetti di luce ombra visto che siamo su una Playstation 4 sono fatti veramente bene ma la cosa che forse mi attizza di più sono i personaggi il protagonista ok un umano fatto veramente bene nel design e nelle animazioni ma la creatura Traiko porca troia credo che sia una delle creature digitali più reali che abbia mai visto finora chissà magari in futuro ce ne saranno di migliori ma questa è fatta veramente bene nelle animazioni facciali nei movimenti in tutto insomma il gioco graficamente è una bellissima gioia per gli occhi nessuno riesce a resistergli perché siamo arrivati a livelli veramente eccelsi con la Playstation 4 forse stanno sfruttando bene il suo hardware per quanto riguarda il sonoro come da tradizione allora ce ne sono abbastanza certo poi abbiamo anche addirittura una buona quantità di musiche che sono state un po' ispirate a quelle di Shadow the Colossus e Deiko anche se sono totalmente originali ho notato che sono fatte bene adatta ogni situazione e non stonano per niente eccoci alla parte più importante ovvero la giocabilità questo The Last Guardian cosa sarebbe? beh a quanto pare è una sorta di gioco d'avventura con molti elementi mitologici come funziona? semplicemente che noi muoviamo il nostro protagonista che adesso mi sfugge il nome e niente deve muoversi all'interno di questi ambienti tridimensionali ma veramente tridimensionali è un po' come nei giochi del passato deve semplicemente risolvere enigmi e sfuggire ovviamente i cattivoni di turno come al solito perché ovviamente lui non è che sarà sempre solo ci saranno dei momenti in cui il nostro protagonista verrà aiutato ovviamente da traico che gli servirà ovviamente in certe situazioni veramente difficili ecco ve lo dico già poi un'altra cosa che è molto importante è che dovete ovviamente essere molto intuitivi nel fatto del fatto in cui dovete usare anche lo scenario per andare via sì perché se avete giocato giochi un po' tipo fossil eco oppure tanti giochi platform del passato un pochettino vi servirà a capire che bisogna stare attenti il gioco ricorda un pochino la lontana Assassin's Creed certo l'idea potrebbe anche piacere se siete grandi fan di Assassin's Creed però ho notato che a volte bisogna ripetere in certi frangenti le stesse azioni e a volte certi enigmi non sono proprio facili da capire non ci viene spiegato molto bene come dobbiamo risolverli poi per quanto riguarda i combattimenti che sono una parte del gioco diciamo è un gameplay un po' difficile da capire perché diciamo soltanto che qua si gioca un po' come in Ico solo che questa volta sarà Traiko a intervenire a darci una mano insomma Trico o Traiko come vi pare diciamo ci darà un buon aiuto e però questo certamente ci renderà la cosa più facile però la cosa interessante è che questo gioco è più un'avventura che un gioco d'azione quindi anche se a tante persone potrebbe non piacere il fatto che è un'avventura in cui dovete riflettere e non passare subito all'azione diretta potrebbe anche insomma non piacere quindi che dire consigliato? sì questo è un gioco che merita tanto sicuramente vi catturerà per via dell'atmosfera mitologica forse per la tenerezza di Trico e anche per tutti gli elementi mitologici e il rapporto uomo-animale che è presente all'interno del videogioco se volete recuperarlo c'è solo per Playstation 4 e diciamo merita assolutamente poi sapete c'è qualcuno che forse vi dirà il gioco è tecnicamente troppo vecchio la trama non decolla cioè non me ne frega un cavolo ecco questa è la mia opinione io lo considero un gioco che non punta sulla grafica da paura anche se ce l'ha veramente da paura ma su un gameplay ben studiato che sicuramente non stona perché ormai con tutti questi cazzo di Call of Duty Battlefield che ci propinano ogni santo anno oppure i Forza Motorsport che ammetto che sono buoni ma ormai mi sto stancando di vederne sempre uno questo almeno è una sorta di perla in mezzo a tutto quel marciume di videogiochi copiati e ripetuti ci vediamo al prossimo video ciao Sì, sì.